Ben trovati telespettatori. Ben trovati telespettatori del Sassano allo Stagno, questa settimana siamo ad Alzano Lombardo per parlare della possibilità per i sindaci di candidarsi per il terzo mandato consecutivo. E guarda caso, proprio Alzano Lombardo è uno dei casi di cui andiamo a parlare questa mattina. Cosa ne pensate, favorevoli o contrari? Andiamo subito a sentire le persone. Terzo mandato! Ma io non sono qui, sono qui da due giorni. Di dov'è? Messina. Come va Messina? Bene, bene. Solo un minuto, il sindaco di Messina che lavoro sta facendo? Secondo me è un ottimo lavoro, sta sistemando un po' la città, sta facendo parcheggi, quindi sta cercando piste ciclabili, piste pedonali. Ma cosa ne pensa di poter far diventare appunto il sindaco quello di un lavoro a vita? Sempre col benestare dei cittadini che lo votano? Ah, io sono contrario. No? No. Niente? Va bene. Della serie è giusto che non ho? Sì, un paio di mandati vanno bene. Non di più? Non di più. Ha sentito? Sì, certo. Cosa ne c'è in penza di poter prolungare? I sindaci sono una cosa un po' particolare perché specialmente nel nostro comune lo conosciamo, sappiamo com'è e così. Cioè si va un po' a simpatie. Ecco. Non lo so. Per me può anche andare bene il terzo mandato. Dopo dipende sempre dalle persone e cose. Tanto decidiamo comunque noi. Eh, certo. Se riusciamo a decidere. Sì, in questo caso sì. Speriamo in bene. Il terzo mandato per il sindaco Bertocchi? Vedremo. Vediamo un attimo. Mi sembra che abbia un po' mollato però. Penso che abbia altre aspettative adesso. Dice che non accetterebbe la ricandidatura al terzo mandato. No, non lo so. Lui se l'accetta? Per me no. Perché mi sa che ha altre prospettive. Però... E sotto i 5 mila abitanti invece, sindaco, c'è la possibilità di fare sindaco a vita? Questo non lo so. Cioè non mi sono mai posto il problema. A me va bene anche quello. Lei lo farebbe consigliere comunale? No. Assessore? No, mai. No, no, no. Assolutamente. Niente politica. Sondagione sul terzo mandato dei sindaci. Cosa ne pensa? No, secondo me è due, basta. Due mandati basterebbero perché così si cambia, si cambia un po' che va bene cambiare. E metti che becchiamo quel sindaco bravo che la gente ama. Per due mandati. E poi secondo me è un ricambio sempre meglio secondo me perché comunque sia dopo un po' in un paese si creano delle mincizie e invece sa che cambiamo un pochino tutto quanto. Ok, ok. Lei ha fatto mai politica? No. Un periodo piccolo, piccolo, piccolo. No, va bene. E non le farebbe piacere entrare magari nella prossima consiglio comunale? No, consiglio comunale no, però va bene altri nati enti, siamo dentro in altre associazioni, sia io che il mio compagno, in altre cose. Partecipiamo alla vita del paese. E allora eccola qui la futura siaco di... Un po' impegnata in questo momento. Quindi vuol dire che non c'è spazio per la politica? Chissà, chissà, nella vita non si può mai... non si chiudono mai le porte, ecco. Posso chiederti se ti interessa di politica? No, non tanto. Non tanto? No, no. Da quanto abiti a Alzano? Sono nato qua. Sei nato qui, da sempre qui? Sì, da sempre, 21 anni quasi. C'è la possibilità di fare il sindaco per più anni, cosa ne pensi? Sindaco per più anni? Terzo mandato dei sindaci. Il sindaco deve cambiare oppure deve rimanere sempre quello? Dipende, se fa il buon lavoro rimane, se no da toglierlo. Certo. Se no fa il lavoro bene. E tu però non lo faresti? Non ti candideresti? Ti piacerebbe fare il sindaco di Alzano Lombardo? Ma sì, se un giorno le cose vanno bene, lo farei. Non escludi quindi nel tuo futuro? Non escludiamo niente. Magari che lo sa, tra dieci anni magari ti vediamo come sindaco. Eh sì, magari. Pocca al lupo. Grazie, grazie. Il terzo mandato dei sindaci? Non so neanche cosa sia. Farei sindaco? No, no, il terzo mandato. Cioè, se sarà la terza volta non dovrebbe. Eh, adesso possono farlo per due volte consecutive. Adesso c'è la possibilità di farlo per la terza volta così. Vabbè, se va bene vuol dire che il popolo ce lo vuole. Ecco, tutto questo. E quindi lei è d'accordo? D'accordo. Qualcuno dice no, non deve sempre essere lui, perché poi si creano amicizie magari. Non so. Vabbè, la amicizia si possono creare anche in due anni, non è che. Deve aspettare il terzo anno. Lei lo farebbe mai il consigliere comunale o il sindaco? No, perché non sono portato a queste cose qui. Cioè, non mi piace tutte le quinte per i partiti. Io non ho fatto neanche la tessera a tesserarmi, perché dove andavo chiedevano prima i soldi e poi no. Non pago né tessera né niente. Quindi non la vedremo mai in politica? No. Categorico, no. Cosa ne pensa del terzo mandato dei sindaci? Non so, non sono ancora... non so niente. C'è la possibilità di fermarsi per il terza voto consecutiva, quindi fare il sindaco per 15 anni. Sì, quello lo so, quello ho sentito è il disegno di legge, quello lo so. È stato provato quindi? Sì, so che è stato provato il disegno di legge, però che il sindaco di Alzano non lo so se... Ma riguardo al sindaco... È il secondo mandato, pertanto potrebbe fare il terzo. Però non so se si è presentato ancora o meno. Eh, c'è qualche anno ancora appunto... Non lo so, non lo so. Comunque vabbè, penso che sia una cosa... Buona? Sì, buona nel senso che... Tanto le leggi che hanno fatto prima per non prolungare troppo i mandati per questioni di malavita, tutti i finanziamenti, tutte quelle cose lì, ci sono dei punti di domanda. Questo qua da vedere come poi vanno le cose. Però se non ho deciso, io non posso farci niente, non posso andare a Roma a far cambiare la... No, no, certo, certo. No, chiediamo solamente se lei è d'accordo con questo fatto che un sindaco possa stare per 15 anni... No, un 50% d'accordo, 50% però è un punto di domanda che non lo so come andrà a finire. Ah, ok. E c'è quello, c'è ancora un attimo di confusione, non lo so, insomma, ecco. Certo. Speriamo che vada bene. Invece nei comuni piccoli uno può fare il sindaco a vita? Sì, quello ne è parecchio, sotto i 5.000. Sotto i 5.000. Sotto i 5.000, sì, ho letto il nuovo... E di questo cosa ne pensa? Bene, nei comuni piccoli ho avuto dei colleghi di lavoro che abitano in piccolissimi comuni qui della provincia di Bergamo che il sindaco, oltre a fare il sindaco, doveva fare anche il vigile urbano, doveva fare l'attetto al cimitero per andare a vedere le esumazioni e così via. Pertanto è abbastanza faticoso, ecco. Però d'altronde, vabbè, se non c'è nessuno che si presenta, qualcuno deve andare su a fare il sindaco nei piccoli comuni. E speriamo che... Eh, lì ci sono tante alternative, penso, perché se non si presenta nessuno, automaticamente il più giovane che abita lì in comune, automaticamente è quasi obbligato a farsi avanti e a fare il sindaco lui. Lei non ha mai avuto esperienze? No, 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 io lavoravo in un'industria privata, pertanto con la politica non c'entra assolutamente nulla per quanto mi riguarda. Nemmeno adesso non ha intenzione se glielo chiedessero? No, adesso sono vecchio, ho i capelli bianchi. Non ha intenzione di... No, no. Se glielo chiedessero, no, non accettere. No, però non avrei l'esperienza, cioè andrei proprio allo sbaraglio, non saprei come metterla. Però vi so che è considerato che io sono nato nel 1948, fate i conti di quanti anni ho, andare adesso a questa età, 76 anni prossimi, andare a fare, mettersi in politica, così penso proprio, preferisco andare in vacanza al mare. Stiamo parlando di terzo mandato dei sindaci. Sì. Favorevoli e contrari? Favorevoli. A cosa? Eh, alla possibilità per il sindaco di presentarsi per la terza volta. Giusto, sempre giusto. Favorevoli. 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 Favorevoli al nostro sindaco ci piace. Sì? Sì, bravo. Quindi vuol dire della serie che lo rivutereste per la terza volta? Sì, esatto. Sperando, in questo caso, che abbia voglia di ricandidarsi ancora. Esatto, sì, sì. È difficile fare il sindaco nei paesi? Secondo me nei paesi sì, soprattutto adesso. Secondo me, non è il mio mestiere, per cui non è che me ne intenda tanto. Però secondo me è un po' cambiata la cultura adesso, bisogna un po' modernizzarsi alle nuove generazioni che ci sono e alle nuove persone che ci sono, che adesso siamo un po' più misti. Invece una volta eravamo solo un po' più chiusi, secondo me. E qui non c'è nessuno che ha voglia di candidarsi? Ma mamma, magari potresti. Ma ti devo dare i numeri Paola. Stai dando i numeri Paola, stai dando i numeri. No, 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 no. Però, no, io no, sono troppo giovane. No, non sono capace. Quindi nemmeno come consigliere. Troppo impegnativo. Troppo impegnativo. Secondo me è impegnativo. Però bisogna fare una statua a quelli che si candidano. Eh, secondo me sì, 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 esatto. Cugina, che vice sindaco. Ah, ok. Ah, quindi abbiamo dei politici in famiglia? Abbiamo dei politici in famiglia, ma noi no. No, no. Preferite starne fuori? Preferiamo starne fuori perché gestire troppa gente dopo è troppo complicato, non è nelle nostre corde. Non sono di Alzano. Da dove arriva? Là in cima. Ah, ok, ok. Là siamo fuori da tutto. No, 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 non mi interessa più i politici. Non la segue? Non è che quella del paese? No, 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 no. La sua intensità nel no? Ma no, si prese. Fa presupporre che è proprio zero? No, niente. Niente. Non ha mai fatto il sindaco? Mai. Non ha mai fatto l'assessore? Mai. Niente. Il terzo mandato dei sindaci? Ma no, no, non sono di Alzano, sono di Albino io adesso. Mi sono già rotto le palle 30 anni io qui a Alzano. Cioè perché lavora qui? No, perché lavoravo qui. Ah, lavorava qui. Sì, non ci sono problemi. Beh, non segue la politica dei paesi? No, il paese adesso non mi interessa più. Mi interessa guardare ogni tanto i lavori che ho fatto e basta. Che qui ne ho fatti tanti. Bene. Ma tanti. Vede tutte queste facciate quale, vede? Sì. Ecco, vede tutti i tetti. Sì. Gli ho fatti sottoscritto. Hai capito, complimenti. Eh, prego. Complimenti. Ma quindi si interessava più di tetti che di politica? No, mi interessava, facevo l'artigiano edili. Non ha mai seguito la politica? No, avevo degli amici che logicamente, però ho visto che se c'era qualcosa di pulito non era certo la politica, era il lavoro. E basta. L'hai mai fatto appatti con i comuni? No, dal comune ho avuto tante storie. Sempre con i privati? Sì, solitamente per i lavori, per compri. Adesso sono andato a Alvino ad abitare, ma vedo che è tutta Italia, è uguale. Se le avessero chiesto di entrare in politica, di entrare nelle liste comunali? Eh, avrei sicuramente spinto tanto a fare qualcosa di meglio su dove sono nato io a Brumano. Sì, adesso ho letto sul giornale che forse faranno la strada, perlomeno cercheranno di migliorarla. Perché là sono un posto sempre abbandonato, non lo so. Tutto è questione di soldi penso, perché ne so qualcosa dei soldi. Se non ci sono, non si fa niente. Se ci sono, praticamente diventano subito la metà solo perché ci sono tanti. Brumano è una frazione del comune di Alzano. È una strada vecchia, ma c'è su un bel paesino che sarebbe da riqualificare un pochino come si deve, ma è sempre stato abbandonato. Io lì sono nato, sono andato fino a 16 anni, poi sono andato qua nel 61, sono andato via al 2000, preciso, ho fatto qui quasi 40 anni. Stiamo parlando del terzo mandato dei sindaci. Cosa ne pensi? A me va bene il sindaco. Quindi è giusto che si possa ricandidare? Sì. Il sindaco si può ricandidare per la terza volta, cosa ne pensa? Sì. È favorevole o contraria? Favorevole. Sì. Ha fatto buone cose, dopo ci sono piccole cose che vabbè, ci stanno, ma però va tutto bene. Ok. Lei farebbe mai un'esperienza in comune? No. No? No. Per quale motivo? Che poi tra l'altro seguo sempre la politica tutte le sere. Brava. Qualche attimo di pausa per il nostro Sassonello Stagno e tra poco torneremo ancora ad Alzano Lombardo. Stiamo facendo un sondaggio, terzo mandato dei sindaci. Cosa ne pensi? Sono di Alzano meglio. Di dov'è? Villa di Serio. Lì come si comporta? Stiamo facendo un bel lavoro? Dove? A Villa di Serio. No, ma sanno già chi è il nuovo sindaco, perché si è presentato ancora il Morotti, il Mario, lo conosce? No. Ma si è presentato ancora lui, allora le altre liste non so se si presenteranno perché ha già quasi l'80-90%. Davvero. Questo... Perché lui aveva già fatto due mandati prima. Adesso è scaduto il tempo, si è rappresentato ancora... Eh, adesso ne potrà fare tre. Eh? Tre. Lei è d'accordo sul fatto che i sindaci restino al loro posto così tanto tempo? Sì, io sì, perché c'è carenza, un po' di sindaci, perché... Gente competente, insomma. E quando se ne trova uno che ha voglia di farlo? Allora, dopo... Lei non è mai stato in politica? No, no, no. Io sono sempre stato quello di bicicletta. Ah, ok. Ho allenato le squadre di bici nel mio paese, sempre a livello direttantistico, però sono 55 anni che vado in bici e vado anche... Assessore allo sport? Eh, non sono mai stato perché non mi piace andare in quelle... Ah, quindi neanche sei il sindaco Morotti o niente? No, poi ho 78 anni, è meglio che lasci andare tutto con me, eh? Va bene. Lasciamo che siano quali un po' più giovani a candidarsi. Sì, più a chi vuole la gioventù, gente in forza, gente che sa fare, gente che ha prospettive. Ma i giovani hanno voglia di lanciarsi in politica a fare gli amministratori del paese? Ma io penso... penso poco, poco. I giovani non sono proprio propensi, non so perché, forse sbaglierò, ma è una mia idea così che... Sui sindaci... Ah, bravo sui sindaci, non sono competente in materia, eh. Ma c'è la possibilità di farlo per la terza volta di fila. Ma mi sembra valido, però, eh. Ma io in tutta Italia, eh, non solamente l'Italia, no? Sì, sì, sì. Sì, no, ma mi sembra valido. Però io non sono un elucubratore tale che possa consigliare... Ecco, 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 ecco. Lei non è mai entrato in politica, eh? No, mai, mai, non so, bisogna, non so, avere altri carismi, altre doti. Lei anche da fanciullo non è mai nutrito appunto... No, 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 perché sono un po' anche filosofo e quindi Platone e Aristotele consiglierebbero l'entopede in politica. Ah, ok. L'entopede. Dà anche dei consigli filosofici al sindaco attuale? No, no, ma però io l'apprezzo perché ha una struttura mentale un po' come la mia. Davvero? E com'è la struttura mentale? Eh, no, insomma, di... come di... centro-destra, no? Centro-destra. Con atteggiamenti... Non così precisi verso il centro-sinistra. E io allora applaudo, applaudo, applaudo. Cosa ne pensa del terzo mandato dei sindaci? Non ne so niente. Favorevole o contrario? Non ne so niente, non conosco l'argomento. Non è mai entrato in politica? No. Non le piacerebbe? No. Se gli ho chiedessero assessore allo sport? No. Stiamo facendo un sondaggio sul terzo mandato dei sindaci. Sì. Favorevole o contraria? Non ho una vera opinione. Dipende dal sindaco, magari qualcuno lo vuoi per la terza volta, qualcun altro, prima se ne va, meglio. Ah, ok. In quel caso decidono i cittadini. Sì, direi proprio di sì. Lei non si è mai candidata? No, mai. Non sono neanche di Alzano, per la verità, sono solo qui per curare la mia nipotina. Ah, ok. Di dov'è? Sono dalla Val Brembana, sì. Lì il sindaco è al primo mandato o al secondo? Al secondo, sì. Vedremo. E quindi se si ricandidasse ci sarebbero buone possibilità? Il problema è che nei paesi piccoli non è che ci sono mille candidati, a volte la scelta è molto molto limitata, però va bene. Quanti abitanti siete? 4.000 rotti. Ah, quindi sotto i 5.000 c'è la possibilità di essere sindaco a vita. Ah, dice? Sì, sì, sì. C'è via lì, c'è niente limiti per i comuni sotto i 5.000. Allora, va bene. Vediamo insomma cosa succede. Sindaco a vita. Non sono molto politicizzata io. No, niente perché non vado più a votare. Perché? Perché mi hanno stufato, mi hanno spuitizzato, proprio praticamente tanto quando è il momento delle elezioni, promettono Mari e Monti, destra e sinistra, però dopo alla fine quando hanno preso la poltroncina, la caderia, come la chiamiamo noi, sotto il sedere, fanno il cacchio che hanno voglia loro. E lei non è mai stato simpatizzante della politica? L'ha mai seguito? No, l'ho seguito a un certo punto, ma però alla fine mi sono stancato. Infatti ho deciso non vado più assolutamente per nessuno, né le comunali, né le regionali, né quelle europee, basta. Ho deciso di proprio non votare più. Se però la candidassero per entrare nel prossimo... No, anche perché ho un'età che ormai non mi prenderebbero neanche più. No, perché? E' 77 anni dove vuole che vada? Oh, le dimostrava molti meno! E allora, niente. Va bene. Allora lo facciamo fare qualcun altro. Ecco, va bene. Terzo mandato dei sindaci. No, 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 non sono del paese. No, fa niente, in generale. Cosa ne pensa la possibilità che un sindaco possa stare alla guida del comune per 15 anni? Credo più nei cambiamenti. Sì? Perciò penso che va bene che conoscono il territorio, possono dare continuità ai progetti già iniziati, ma penso che a volte idee nuove, teste nuove, visioni nuove magari possono aiutare, ma non so come sia andato. Certo, quindi lei rimane per i due mandati e non di più? Sì, per i due mandati. Certo. Farebbe mai politica nei paesi? Farei politica, sì. Sì? Sì, sì, farei politica. Perché penso che la cittadinanza attiva è qualcosa che ci porta a partecipare. Dove abita? Io abito a Dalme. E lì c'è tanta gente che partecipa attivamente alla politica del paese? C'è difficoltà di capire come partecipare, cosa vuol dire, essere oggettivi, pensare agli altri progetti che servono a tutti, però sì. Quindi segue anche gli appuntamenti organizzati dal sindaco, i consigli comunali? Diciamo che sono attiva tanto nelle associazioni, perciò mi interessa come le risorse vengono distribuite nel territorio e capire... Potrebbe che abbiamo in fronte in questo istante il futuro sindaco di Almè? Non penso, però magari un accessore non si sa mai. Te lo auguriamo. Grazie. Complimenti per l'impegno. Grazie. Posso chiedervi cosa ne pensate del terzo mandato dei sindaci? No, grazie. Tutti a casa. Come tutti a casa? Tutti a casa. Quindi non dopo i dieci anni basta? Basta. Perché? Perché sono troppi. Ma se si sono comportati bene, hanno lavorato bene per... Nessuno si comporta bene. Stiamo facendo un sondaggio sul terzo mandato dei sindaci. Sì, cosa ne pensa? Non lo so a questo punto, perché questo mondo somia menca il periodo qua. Il fatto che i sindaci possano stare di più al loro posto, a comandare il paese? No, è meglio cambiare ogni... Ah. I suoi cinque anni vanno bene. Adesso dieci. Adesso possono fare dieci anni. Io non lo so questo perché non è che mi interessa ormai. Però è meglio cambiare. Cambiare. Sì. Quindi un sindaco sempre nello stesso posto per tanti anni non va bene? No, no. Per me no. Dopo... Oh. Certo. Vorrei le opinioni. La penso così. Per me va bene tutto. Non mi interessa. L'amorevole. Lei cosa dice? Va bene tutto. Ah. Come va bene tutto? Mai, la politica... Ah. Non l'ha mai fatta la politica? No. Non le è mai piaciuto? Non le è mai piaciuto la politica. Non le sarebbe piaciuto candidarsi come sindaco o fare il sindaco? No, come sindaco va bene. Eh. Ma lei, dico... Non le sarebbe piaciuto fare il sindaco? No. No. Cosa ne pensa del terzo mandato per i sindaci? Non guardi quello... Proprio... Non so proprio niente. Mi dispiace. Per esempio, dal Zano il sindaco si potrà candidare per la terza volta? Speriamo. Speriamo in bene che sia così. Già, questa risposta mi fa presupporre che lei sia soddisfatto del lavoro del sindaco. Io sono soddisfattissimo, perché il sindaco è una brava persona. Si è dato da fare per il nostro paese e il nostro paese va bene. Lei non l'ha mai fatto il sindaco? No. L'assessore? Ho fatto l'assessore per otto anni. Allora ci racconti, visto che ha un po' di esperienza, ci racconti com'è stare in politica in un paese? Beh, il nostro paese è un paese tranquillo, tranquillo, però c'è tutti i suoi grattacapi, perché sa, la politica è politica. Io non sono mai riuscito a capire quando uno dice che è bianco e che è nero, se uno dice che è bianco no, è marroncino. Ci sono un po' di compromessi. Ecco, bravo, bravo. Però per il resto, se si riesce ad andare a capo come siamo riusciti in questi anni, con la Lega, siamo stati bene, perché la Lega ha fatto vedere tante cose che mancavano, che mancavano al nostro paese e sono riusciti a farlo. Ecco, quindi adesso stanno andando avanti tranquillamente, logica che c'è l'opposizione che non ne va bene tante cose, ma a me sembra anche giusto, perché l'opposizione è come il nostro governo, se l'opposizione c'è vai bene, ma se l'opposizione non c'è... Ci si addormentano sugli allori. Ci si addormentano, ha capito? E lei come mai dopo otto anni non ha più voluto continuare? No, dopo basta, no, dopo basta. Io avevo una certa azienda, un'azienda molto valida. Dopo ho smesso perché ero stanco, perché i figli non ce ne andavano mai. Ma non perché è arrivato a un certo punto che ha detto non ne posso più, sono veramente... No, ero, diciamo, sono arrivato a un certo punto che con la mia passione che avevo per la mia azienda, per i miei operai, ma a un certo punto era crollato tutto, era crollato tutto. Ha detto cosa facciamo? Andiamo avanti? Sono andato avanti ancora qualche anno a dire va bene. Io dicevo sempre se guadagno un euro vado avanti ancora, se non lo guadagno mi fermo. E i miei mi dicevano guarda che è l'euro, è già un po' che non lo guadagniamo più. Stai allerta perché altrimenti ti mangiano fuori tutto. Allora ho detto così basta, chiudiamo, chiudiamo tutto e facciamo il pensionato tranquillamente, beato. Che sinceramente come ho smesso si è messo a posto tutto, fegato, mica fegato, si è sistemato tutto. Perché vedo adesso i miei figli che purtroppo anche se qua anche lavorano però hanno 10.000 problemi e le tasse, le mie le tasse. Meglio fare il pensionato. Eh? Meglio fare il pensionato. Sì, sì. Terzo mandato di sindaci di che cosa? Di Alzano? In generale tutta Italia. Sbagliatissimo, perché solo così possiamo favorire la corruzione, possiamo favorire gli interessi, possiamo favorire tutto quello che ci porta a essere quello che siamo. Non valiamo più niente, non contiamo più niente, noi votiamo sperando di qualcosa e poi alla fine le cose non cambiano mai. Basta così. Però decide la popolazione, quindi uno si può anche ricandidare però se gira la voce che è il candidato. Sì, però guardi che oggi l'elettore medio ha una coscienza relativa. Su dieci elettori tre forse fanno dei ragionamenti, altri sette seguono un po' quella che è la corrente o quella che è la convenienza. Non sto malissimo, voto quello che... Quindi magari tutto quello che succede magari uno nemmeno sa... Il 70% secondo me è in questa situazione, si rende conto sì, si rende conto no. Allora peggio addirittura nei comuni sotto i 5.000 abitanti, lì uno potrebbe fare il sindaco a vita. Ma no, noi siamo amici, io ti faccio... Va bene così, fai il sindaco che va bene così. No, io penso che ci sia una cultura, non una cultura perché non è proprio legato alla cultura, una coscienza molto modesta su questo tema. Si va avanti così da... Adesso io non ho più 20 anni e mi rendo conto che tutti i discorsi che si fanno oggi si facevano 10 anni fa, 30 anni fa, 60 anni fa. Quindi alla fine la conclusione è che chiunque vada poi in primis vada a mantenere una certa condizione che è quella del politico privilegiato con tutto quello che ne consegue. Dunque, poi se avanza qualcosa bene, però vedo che i discorsi sono sempre gli stessi, chiunque sia il governo, il tema è sempre lo stesso dunque. Lei non ha mai pensato? Di che cosa? Di mettersi in politica, ma anche nei piccoli comuni. Ho avuto altro da fare nella vita, ora potrei anche farlo ma non ho più voglia sinceramente e io faccio parte di quella schia di persone che diceva bene, non ci sarà una tragedia, sarà quello che è sempre stato, però è sbagliatissimo. Una piccola pausa per il Sassano e lo Stagno dal Zanon Lombardo, ci rivediamo dopo la pubblicità. Terzo mandato dei sindaci, è d'accordo oppure no? Ma con il sindaco che abbiamo adesso non possiamo lamentarci. Ed è il secondo mandato? Secondo. Quindi potrà ricandidarsi per la terza volta? Ma sì, perché no? In generale parlando di tutta l'Italia, non solo del caso specifico di Alzano. Per come vanno le cose? La persona lì nello stesso posto di potere per 15 anni di fila. Allora magari, visto le cose come vanno, magari dare un po' una spolverata, una ventata di freschezza, un cambio, sarebbe male. Ci sono persone che si candidano per dare questo cambio? Nel pubblico? No, no, proprio qui parliamo dei paesi. La voglia di mettersi in politica, di fare gli amministratori. Sì, sì, sicuramente ci sono. Io no, io no. Eh, a questo volevo arrivare. Io no. A candidarla come consigliera, assessore o sindaco. Ah, beh, certo, perché no? Non le piacerebbe? Visto le cose come vanno, tante cose superflue che si passa sopra. Quindi le piacerebbe? Certo, perché no? Ha tempo per fare la sua vista? Il tempo è quello che manca. Purtroppo la famiglia mi porta via. Cosa farebbe per Alzano? Mi assorbe. Ma forse bisognerebbe parlare un po' ai cittadini, di aprire un po' più gli occhi, essere un po' meno egoisti verso se stessi. Perché tutto quello che si vede in giro è il menefreghismo che c'è sempre stato e aumentato. Tutto questo. Cosa ne pensa della possibilità per i sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti di candidarsi per la terza volta? Sono favorevole. Forse perché conosco il mio cugino, il sindaco. Mi sta parlando del caso specifico di Alzanolo. Magari sono di parte. Allora a me può anche andare bene l'idea di candidarsi per la terza volta. Ci starebbe. Lei non entrerebbe a far parte del nuovo gruppo consigliare? Ho già troppi impegni. Sì, anche comunque a livello calcistico. Altro da seguire. Altro da seguire. Ho lei anche da seguire. Ok, ok. Troppi impegni. Ma nel passato invece non ha mai fatto, non ha mai ricoperto un ruolo all'interno del Consiglio Comunale? No, mai. Mi sarebbe piaciuto? Non lo so, forse no, sono troppo... Troppo... No, penso di no. Non fa parlare la politica dei paesi? No, però mi impegno a fare qualcosa perché faccio qualcosa. È difficile amministrare nei comuni? Secondo me sì. Sì? Sì, perché per andare bene... Cioè per fare bene tante cose magari ci sono tanti vincoli, tante... Poi ci si scontra con delle persone, ognuno la pensa alla sua maniera, come qua, no? Siamo in 13.000, ognuno la pensa alla sua maniera. Ok. Tutto quello che si fa, a una parte va bene, a una parte no, però... Diciamo che la vita del sinneco è un po' complicata allora. Per me sì, è una bella responsabilità, diciamola così. Favorevole o contrario? Sì, favorevole. Per quale motivo? Ma... sono un po'... Ma sempre del Bertocchi che c'è qua. Ah, parliamo in generale di tutta Italia, sì. In tutta Italia possono farlo per la terza volta. Sì, sì, favorevole perché se i primi due sono andati bene, non vedo perché non fare il terzo. Tutto lì. Era stato limitato perché poi... Si sono andati in cinque anni l'uno, giusto? Cinque anni. Cinque anni, però anche il terzo ci può stare, se uno è bravo perché no. Io lo vedo bene. E allora a questo punto perché non ha vita. Anche ha vita. Come fanno nei piccoli comuni. Perfetto, io lo farei. Se uno è bravo, continuerei a cambiare perché non serve. Se è bravo, se non è bravo, va bene fare i cinque anni, poi mandarlo via. Lei non ha mai avuto questa professione? No, io non ho mai fatto il sindaco, no. Neanche l'assessore? No, no, io in alcuni ci sono entrato solo per lavorare, basta. Lavoretti, pittura, roba del genere. Perché non si è mai candidato perché pensa che si ha un impegno troppo forte? Non faccio parte io di politica, non sono proprio interessato, non è mai fatta. Non è la sua passione. Ecco, bravo. È tutto anche per questa settimana per il nostro Sassonello Sagno che abbiamo voluto dedicare la possibilità per i sindaci di candidarsi per la terza volta nei comuni fino a 15.000 abitanti. Grazie a voi che avete seguito la trasmissione, grazie ovviamente a Vladimir Lazzarini che ha curato riprese e il montaggio del Sassonello Sagno che tornerà tra sette giorni su Antena 2 TV. Grazie a voi.